Un cordiale saluto ai nostri telespettatori e benvenuti ad una nuova edizione di Local News. Apriamo la nostra finestra informativa con la cronaca dalla Valle dell'Irno, abusi sulle nipoti, il sessantenne respinge le accuse. Il sessantenne sanseverinese arrestato per violenza sessuale aggravata respinge le accuse a suo carico. Al vaglio degli inquirenti anche conversazioni su chat e social. Si professa innocente il sessantenne di Cava dei Tireni finito in manette per presunti abusi sessuali nei confronti delle nipoti. L'uomo residente a mercato sanseverino interrogato dal GIP del Tribunale di Salerno ha negato tutte le accuse. Gli investigatori hanno ricostruito un lungo elenco di episodi a partire dal 2017, quando le ragazze avevano rispettivamente appena 15-11 anni. L'inchiesta è partita dalla segnalazione della madre al servizio assistenza infanzia, dopo che la più giovane delle figlie aveva confessato particolari fino ad allora ignoti sul rapporto con lo zio acquisito. In seguito anche la sorella più grande si è aperta con i genitori, sostenendo a sua volta di aver ricevuto presunte molestie in vari contesti. Gli episodi portati alla luce si sarebbero svolti nell'arco di circa 5 anni fino alla seconda parte del 2022, ovvero alle prime rivelazioni delle ragazze. Tutto sarebbe accaduto in un contesto familiare apparentemente ordinario, in quanto i rapporti tra le due famiglie residenti nella valle dell'Irno non avevano mai ricevuto scossoni particolari. Le sorelle di Fisciano, successivamente trasferite a Salerno con i genitori, incontravano spesso la zia e il suo compagno, che andavano a trovare a casa. Non capitava di rado, soprattutto d'estate, che venissero affidate alle cure dello stesso zio che le accompagnava a mare. Qui si sarebbero consumati palpeggiamenti all'inizio scambiati per semplici gesti d'affetto, ma che poi avrebbero instillato i primi sospetti delle sorelle, allora minorenni. Le indagini coordinate dalla procura salernitana hanno visto il sequestro di cellulari e il recupero di chat e messaggi sui social network, da cui risalterebbero in maniera evidente gli atteggiamenti quantomeno ambigui dell'uomo verso le nipoti acquisite, con annesse e scenate di gelosia verso il fidanzato di una delle due. Proseguiamo con la cronaca. È stato eseguito nei giorni scorsi, su disposizione della procura della Repubblica di Varo della Lucania, un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di un dirigente medico dell'ASL per un valore complessivo di oltre 26 mila euro. Le indagini delle fiamme gialle della compagnia di Varo della Lucania sono state avviate a conclusione di una verifica fiscale, nel corso della quale era emerso che il professionista, dal 2021, aveva stipulato un rapporto di tipo esclusivo con l'ASL di Salerno, per il quale era obbligato a sospendere la propria attività privata. Il medico, in virtù del rapporto di esclusività, era quindi autorizzato a svolgere attività libero professionale intramenia presso il suo studio, solo per visite specialistiche prenotate attraverso il CUP, il Centro Unico di Prenotazione Regionale, e di cui i proventi dovevano essere versati direttamente all'azienda sanitaria. Dall'analisi della documentazione fiscale non acquisita nel corso delle indagini è emerso, tuttavia, come il professionista abbia continuato ad esercitare attività di lavoro autonomo, sia presso strutture sanitarie private della provincia di Salerno, che presso alcuni studi situati fuori regione. Inoltre, i finanzieri hanno effettuato ulteriori approfondimenti, ascoltando i pazienti e i titolari di studi privati, riuscendo a ricostruire in quali giorni e presso quali centri, il medico aveva effettuato le visite a titolo personale. Continuiamo con la cronaca, spostiamoci in Irpinia. I carabinieri della sezione di Castelfranci hanno denunciato un ventenne del posto, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di sparcio di sostanza superficiente e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si sono svolti in un orario serale a Castelfranci. I militari della locale stazione, avendo notato i movimenti e l'atteggiamento sospetto di quel giovane che si aggirava a piedi nel piccolo centro al Tirpinio, hanno proceduto al controllo, ostacolato con spintoni e tentativi di rivincolarsi da parte dello stesso. Nel corso dell'attività, il giovane commossa a Fulminia ha gettato due involuqui, nel maldesso tentativo di disfarsene prontamente recuperati dai militari e risultati contenere due grammi di cocaina. Un'altra dose di analoga sostanza superficiente è stata rinvenuta all'esito della successiva perquisizione domiciliare. La droga, unitamente a materiale vario utile per il confezionamento delle dosi, è stata sottoposta a sequestro e il ventenne deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica di Avellino. Ancora cronaca. I carabinieri della sezione di Montella, prendendo spunto dalla denuncia sporta di una ragazza, hanno deferito all'autorità giudiziaria un 35enne della provincia di Caserta per truffa. Nel corso delle indagini eseguite dai militari, sono emersi inconfutabili elementi di reità nei confronti dell'uomo che aveva pubblicato, sul noto sito online, un annuncio per la vendita di console per videogiochi. L'inserzionista, grazie al prezzo conveniente, era riuscito a persuadere la potenziale acquirente che, convinta che si trattasse di un buon affare, non aveva esitato ad effettuare l'acquisto pagando 400 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato la console e si è reso irriperibile. A seguito di mirate indagini, i militari sono riusciti ad identificare il presunto truffatore che è stato deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. Per il medesimo reato, i carabinieri della stazione di Chiusano San Domenico hanno denunciato un sessantenne della provincia di Cosenza. Un cittadino, dovendo acquistare del pellè per riscaldamento, era stato attratto da un'offerta pubblicata su un sito online, effettuando il pagamento di 100 euro mediante bonifico bancario. Anche in questo caso, riscosso il denaro, il presunto venditore si è reso irriperibile omettendo di consegnare la merce. Siamo a Salerno, in via Irno. Per cause da accertare, sono caduti grossi calcinacci dal ponte ferroviaio di via Irno. Danneggiata purtroppo un'auto che si è trovata in quel prestito tratto di strada durante il cedimento. Traffico in tilt dunque. Sul posto la polizia municipale, la polizia di Stato e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Automobilisti intrappolati nelle code che, inevitabilmente, si sono formate in pochi minuti. Tensione a Ponte Cagnano-Faiano. Nei pressi della stazione ferroviaria, un conducente di Bassitalia sarebbe stato aggredito da uno straniero per aver legato a quest'ultimo di essere riaccompagnato, come richiesto, presso una fermata già effettuata. Il giovane, prima di dileguarsi, avrebbe scaraventato la sua bici contro il conducente, che si era ovviamente rifiutato di modificare il percorso del pullman. L'autista è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Sono in corso i dovuti accertamenti. La dea bendata abbaccia ancora l'Irpinia, vincita di 500.000 euro in una tabaccheria di Avellino. Una fortunata giocatrice ha intascato la maxivincita grazie a un grattevinci da 5 euro, doppia sfida. L'acquisto è avvenuto nella tabaccheria Noviello di Rietagliamento. La signora, stando a quanto si apprende, ha acquistato il grattevinci nella serata di ieri. Nella medesima tabaccheria l'anno scorso è stata centrata anche una quaterna da quasi 300.000 euro. A Bagonissi è stato inaugurato l'eco compattatore. L'impianto è stato installato e inaugurato nel quartiere Nuova Irno e segna una svolta nella raccolta della plastica. Inaugurato il nuovo eco compattatore della plastica installato dal comune di Bagonissi in via Pertini, nelle vicinanze della Casa dell'Acqua, nel quartiere Nuova Irno. Si tratta di un impianto che serve per la raccolta differenziata di bottiglie ed è in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di plastica, riducendone il volume e favorendone il riciclo. L'eco compattatore, fortemente voluto dall'amministrazione, può essere utilizzato da tutte le utenze domestiche dei cittadini residenti sul territorio di Baronissi. Credo che sia un riconoscimento alla condizione della città per i buoni risultati in termini di rispetto dell'ambiente, di raccolta dei differenziati, della gestione e manutenzione della città, che è plastic free. Noi lavoriamo per mettere al bando la plastica che è dannosa per l'ambiente, per la salute. Sogneremmo una città senza plastica. Abbiamo attivato iniziative anche all'interno della scuola. I dieri, gli scolari della Pivana San Francesco sono venuti a questa inaugurazione, l'eco compattatore, che è un sistema di riciclo della plastica, basta inserire in questa macchina una bottiglia di plastica che sarà riciclata e quindi nel rispetto all'ambiente. I cittadini che utilizzeranno questo sistema, io li invito caldamente a non comprare plastica, a comprare vetro, ma se proprio dovesse essere, perché insomma ogni cambiamento, ogni transizione richiede dei tempi, usino il mangiaplastica, avranno anche dei benefit con degli sconti nei negozi convenzionati. La Biblioteca Provinciale di Avellino Capone organizza per la prima volta dei gruppi di lettura per adulti e ragazzi. Un'occasione per riscoprire insieme il valore della lettura e della discussione come strumento di apertura agli altri e di dialogo tra diverse visioni e scritture del mondo. I partecipanti al gruppo di lettura sono invitati a leggere in privato un libro che di volta in volta viene scelto in comune per poi condividerne insieme emozioni, osservazioni, analisi e approfondimenti. La pratica dei gruppi di lettura si fonda infatti sulla discussione e il confronto aperto attorno ad uno o più libri scelti e letti dai partecipanti, secondo un calentario di incontri. La Biblioteca Provinciale metterà di volta in volta a disposizione del gruppo alcune copie cartacee dell'opera scelta e in alternativa copie in formato digitali reperibili sulla piattaforma Media Library Online. Il primo appuntamento è per venerdì 24 febbraio alle ore 17 in Sala Trevisani con il primo incontro rivolto agli adulti nel corso del quale si condivideranno le modalità organizzative dell'iniziativa. Con i piccoli lettori invece il primo appuntamento è per venerdì 31 marzo presso la sezione ragazzi della Biblioteca Provinciale. La partecipazione è libera, gratuita ed aperta a tutti. Un incontro a confronto tra i più importanti specialisti urologi campani per fare il punto sulle nuove tecnologie diagnostico-terapeutiche in uro-oncologia. Prendere via venerdì 24 febbraio nell'aula magna dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino il primo Uro Italy Meeting congresso che vedrà per due giorni 24 e 25 febbraio oltre 50 professionisti delle diverse realtà sanitarie regionali impegnati a dibattere sulle nuove frontiere della chirurgia urologica fra robotica, intelligenza artificiale e realtà aumentata. Presieduto da Vittorio Imperatore, direttore dell'unità operativa di urologia dell'azienda Moscati, il congresso si articolerà in momenti di discussione con lezioni magistrali su temi specifici e attività in sala operatoria, con l'esecuzione di interventi chirurgici trasmessi in diretta in aula magna. Si alternerà la voce di relatori di grande rilievo, tra i quali i docenti universitari Vincenzo Mirone, Ciro Inbimbo della Federico II, Marco De Sio, Ferdinando Fusco della Van Vitelli e i primari dei principali ospedali napoletani, Paolo Fedellini, Francesco Uricchio, Luigi Salzano, Giovanni Di Lauro, Sisto Perdonà e Dario Del Biondo. L'azienda ospedaliera Moscati, sottolinea Imperatore, è dotata di un centro oncologico di riferimento polispecialistico diretto dall'oncologo Cesare Gridelli, fa parte della rete oncologica campana e ricopre un ruolo di primo piano anche nel settore uro-oncologico. Condividere esperienze e sperimentazioni con colleghi operatori del settore è importante per una ottimizzazione delle tecniche utilizzate. L'obiettivo, a fronte di un aumento crescente negli ultimi anni dei casi oncologici trattati in ambito orologico è offrire ai pazienti soluzioni terapeutiche sempre più all'avanguardia, sicure e orientate alla mini-invasività. Tutti in campo, aperte le iscrizioni alla formazione per gli insegnanti di tutta la campania. Sta per partire la campagna formativa regionale Tutti in campo per imparare a riconoscere i segnali di maltrattamenti sui minori. Tra i destinatari, gli insegnanti di tutte e cinque le province campane coinvolte nel progetto Non vedo, non sento, non parlo, selezionato dall'impresa sociale con i bambini. Nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile è promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino, in qualità di soggetto capofila nel bando Ricucire i sogni, iniziativa a favore dei minori vittime di maltrattamento. Gli insegnanti sono osservatori quotidiani del percorso evolutivo dei bambini, per questo possono riconoscere precocemente situazioni di rischio e fungere da figure protettive, attivando tempestivi interventi di protezione del minore attraverso la segnalazione dell'ipotetico pregiudizio agli organi competenti. La segnalazione è il primo passo verso la presa in carico di un bambino vittima di abuso, in quanto attiva un insieme di opportune azioni a tutela in ambito giudiziario e socio-sanitario in suo favore. Ultimati al chilometro 70 della strada stradale 7 bis di terra di lavoro, i lavori di manutenzione programmata di Anas sul viadotto situato nel territorio comunale di Monteforte Erpino, di Scavalco all'autostrada 16 Napoli Canosa, con l'intervento per un investimento complessivo di oltre 1 milione e 700 mila euro, è stata eseguita la sostituzione delle barriere stradali con l'installazione di barriere bordo laterali e bordo ponte, il rifacimento del cordolo e della impermealizzazione, oltre che la nuova pavimentazione e la relativa segnaletica sia orizzontale che è verticale. Siamo in chiusura di questa edizione di Local News, noi vi ricordiamo che se volete contattarci potete farlo all'indirizzo elettronica info-1.it, vi invitiamo a visitare anche il nostro sito internet www.1.it, siamo anche sulle pagine social. Da parte mia è tutto, grazie per averci seguito, un caro saluto.